L'occasione oggi dell'incontro col sindaco di Valvestino e di Magasa per l'attuazione del tunnel della galleria che abbiamo visto che sta procedendo è per me stata importante anche per un'altra questione, quella dell'annessione di due comuni al territorio del Trentino. Ricordo Magasa già territorio del Trentino meno di cent'anni fa. Qui serve riformulare la legge costituzionale, ci sono i referendum fatti, c'è la delibera del Consiglio di Trento, la Consiglio della Lombardia, quindi serve solo metterci ancora l'impegno per arrivare a questo scopo che per noi ma soprattutto per loro è fondamentale per un'identità storica.